Cosa si intende per relativismo? Si intende come stabilito dalla parola stessa, relativo, si intende che non c'è nulla di obiettivo, di oggettivo, ma tutto è relativo, quindi è relativo anche l'aspetto morale, l'aspetto etico e tutto ne consegue di conseguenza. Quali sono gli effetti che può procurare da un punto di vista prettamente religioso? Ecco, innanzitutto Giovanni Paolo II ha scritto l'Encichiche Veritati Splendor per contrastare il relativismo. Però è necessario sempre indagare la parola di Dio che ha un valore eterno. Allora, leggiamo nel Vangelo, Gesù ha detto eternamente «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno», Matteo 24,35. Poi c'è stata la risposta al giovane ricco, quando Gesù gli ha detto «Perché mi interrogo su ciò che è buono, uno solo è buono, se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». E nei Corinzi, quindi parla lo Spirito Santo, capitolo 6, capo verso 9,10 «O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non illudetevi né i morali, né i idolatri, né i adulteri, né i adulteri, né i effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né i avari, né i ubriaconi, né i maldicenti, né i rapaci, e erediteranno il regno di Dio». Quindi queste parole che hanno un valore eterno, e sono state poi rafforzate e quindi confermate nella loro interpretazione corretta da Giovanni Paolo II, «La verità ti splendo», ci insegnano che l'insegnamento di Dio ha un valore eterno, quindi non valeva solo per le generazioni del passato, ma vale per tutte le generazioni. Ciò che era male, che è stabilito dalla scrittura sia male, continua anche adesso, mentre il relativismo fa intendere che a secondo delle opinioni un comportamento possa essere sbagliato, sbagliato dal punto di vista chiaramente teologico, dal punto di vista biblico, religioso, può essere sbagliato oppure no. «E nella società?» «Beh, nella società possiamo benissimo capirlo, perché ovviamente se è tutto relativo non c'è più nulla di oggettivo. Ricordo il famoso film di tanti anni fa con il protagonista, se ricordo bene Gianna, «Maria Volontè, la proprietà non è più un furto», ad esempio. Quindi potremmo dire o pensare che compiere certi atti considerati ancora reato non lo siano per certe persone perché ci sono mille giustificazioni e questo va a incidere sul comportamento della società e sul tessuto sociale nel suo insieme. Qual è il compito della Chiesa a riguardo? Il compito della Chiesa è diffondere eternamente la parola di Dio, la parola di Dio, cioè la Bibbia, non la parola di qualche Papa o di qualche Cardinale o Vescovo o chi volete voi, la parola di Dio, Gesù ha detto non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi il compito della Chiesa è quello di insegnare la parola di Dio e invitare ad obbedire la parola di Dio per la salvezza delle anime e anche per irregolare il comportamento della società. Qual è il rimedio al relativismo? Innanzitutto basarsi sulla parola di Dio sapendo che noi saremo tutti giudicati dalla parola di Dio e non dal modernismo o dalle teorie moderniste, perché altrimenti Dio sarebbe ingiusto perché non si capirebbe per quale motivo, le persone del passato debbano essere giudicate secondo la parola di Dio e invece quelle moderne no. Dio è lo stesso, ieri e oggi e sempre, quindi Gesù stesso, ieri e oggi e sempre, la sua parola ha un valore eterno, cioè la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno, non passerà neanche un trattino della legge, neanche uno iota. Grazie. Grazie.